Penso che i soldi non siano tutto quando tutto ciò di cui ho bisogno è in questa città, in questo stadio. Vincenzo Fiorillo dice no al Carabagher, resta dunque al Pescara e lo ha fatto con un post pubblicato ieri sera su Instagram, parole che suonano come un atto d'amore nei confronti di Pescara e del Pescara. Il legame molto forte tra il portiere Biancazzurro e la piazza è stato una volta in più confermato. Ho fatto delle dichiarazioni importanti e solitamente non parlo per dare aria alla bocca, ha scritto sempre nel post Fiorillo. Ho un'unica certezza ed un sogno, anzi due, quello di voler tornare in Serie A con questa maglia e di giocarmela dall'inizio alla fine senza mai chiedere nulla a nessuno come ho sempre fatto e magari un giorno esserne capitano. Ringrazio il Carabagher che ha cercato di convincermi in tutti i modi possibili. Se Fiorillo avesse accettato l'offerta avrebbe firmato infatti un triennale a cifre considerevoli e già dal 10 luglio sarebbe stato in campo per il preliminare di Champions League. Una opportunità importante da un punto di vista economico e professionale. Dunque Fiorillo resta e quella fascia di capitano così agognata potrà indossarla vista la molto probabile partenza di Gaston Bruggemann. Tante le squadre che hanno espresso interesse sul centrocampista uruguaiano dalla Spagna, dalla Germania, dall'Italia. Il Parma punterebbe forte su Bruggemann ma ora ha la grana del deferimento per il caso sms che mette a rischio la Serie A. E allora la candidata più autorevole per l'acquisto del giocatore al momento pare essere il Leganes, squadra della Liga Spagnola. La richiesta del presidente Daniele Sebastiani, 3 milioni di euro. Intanto proprio nel ruolo di Bruggemann il Pescara sta mettendo a segno un colpo in entrata. Si tratta del centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara che arriva in prestito dal Cagliari. Il giocatore è cresciuto nella Juventus che poi lo ha ceduto a titolo definitivo al Cagliari lo scorso gennaio pur mantenendo il club bianconero il diritto di riacquisto. Caligara è un ottimo prospetto e il suo arrivo può far intendere che difficilmente il Pescara riavrà dall'Inter il prestito di Marco Carraro per il quale diversi club di B e A si sono mossi dopo le tante partite giocate sotto la gestione Zeman. Da valutare anche la posizione di José Macin riscattato dalla Roma a metà prezzo anche se il club capitolino ha ottenuto in cambio il 50% del prezzo della futura rivendita. Su Macin c'è l'interesse di Spal e Udinese non è esclusa una cessione e nel caso il Pescara potrebbe chiedere la permanenza in prestito per un anno.